ok ragazzi buongiorno a tutti buonasera a tutti per un altro episodio di brawl dopo tanti sul tempo siamo qui con gelin signori che andrei a provare ora lo facciamo vediamo gelin signore avevo detto e l'ho fatto domani invece uscirà un video in cui vi troverò non è un po' un livello stabile a provare un po' un livello stabile devo rampone in challenge l'importo di live e l'invito di play Allora, mi piacciono un po' più po' C'è un po' più po' Ma non è niente, non è niente E' un po' più po' più po' più po' più E' un po' più po' più po' più po' più po' più C'è una nuova qui E' un po' più po' più po' più po' più Oh, that's smart Old Gale, this is down the tail Old Gale's gonna make it strong Don't play me I just worked the mystical wet smurfs Non mi stiamo bene, signore Non vorrei dire, ma 1260 radocchi del film Quindi c'è una porta E' un po' app inverso Non te ve quindi sento quel brosso, adattardo Non ti sensi sento quel brosso, adattare? Sì, questo è per il giusto. L'interno! Ok! ok Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.